Ci sono state occasioni da entrambe le parti. Noi abbiamo, secondo me, il rammarico di non aver sfruttato in primo tempo delle situazioni, perché comunque si riusciva a giocare. Peccato che noi abituati su un terreno molto veloce, oggi il campo ci ha un attimo frenato, secondo me, nelle giocate. Siamo stati un attimo imprecisi, potevamo andare in vantaggio in primo tempo. Poi loro hanno trovato questo gol in un'unica situazione. Meglio loro magari nel secondo tempo, che hanno avuto un paio di occasioni. Quando è entrato Donnarumma, insomma, è un bel giocatore. È chiaro che è un giocatore pericolosissimo, che si è fatto suo. Dai, alla fine, uscire senza punti da qua oggi sarebbe stato comunque penalizzante per noi. Però diamo continuità, diamo continuità. Adesso ci aspetta la partita con la Pro Vercelli, che per noi vale mezzo campionato. Siamo cresciuti molto, abbiamo acquisito certe sicurezze, abbiamo acquisito compattezza. Adesso dobbiamo fare un attimo un salto definitivo e cercare di essere più precisi, a volte meno superficiali, perché comunque le giornate passano e i punti cominciano a pesare.